Questa mattina AISA Impianti inaugura un nuovo centro compostaggio, c'è una grande folla, tante persone che sono venute qui a vedere questo ampliamento di questo impianto che è già avveniristico, già molto efficiente, un fiore all'occhiello per tutta la Toscana. Sì, da oggi siamo in grado di trattare l'umido, cioè la raccolta differenziata dell'organico, di tutta la provincia di Arezzo. I comuni probabilmente in futuro hanno intenzione di ampliare questo tipo di raccolta, che poi è la più importante perché è il 30% della qualità dei rifiuti, quindi su 100 kg di rifiuti 30 sono di umido, di organico. Ecco quindi che noi siamo in grado di ricevere allo stesso prezzo di trattamento di un anno fa, quindi senza incremento di costi per i cittadini, tutte le quantità di organico che i comuni della provincia di Arezzo abbiano intenzione di recuperare. C'è il taglio del nastro, che caratteristiche ha questo stabile, questa nuova struttura che viene inaugurata questa mattina? Due sono i principi che l'hanno ispirata, maggiore produttività e maggiore efficienza ambientale e sicurezza ambientale. Come oggi si inaugureranno delle biocelle particolari, in cui fondamentalmente il rifiuto viene tenuto a fermentare all'interno di una biocella, di un garage, a sua volta contenuto all'interno di un altro fabbricato. Questo doppio sistema di sicurezza dà una maggiore garanzia di carattere ambientale e quindi l'assenza di qualsiasi tipo di disagio per chi vive nelle vicinanze dell'impianto. Presidente, questa mattina un altro passo in avanti verso un impianto sempre più efficiente, sempre più all'avanguardia. Sì, grazie per la domanda. Allora, stamattina si inaugura Verde 70, che è la linea a servizio della raccolta differenziata dell'umido, che servirà a tutta la provincia di Arezzo. E ha una particolarità molto importante. È una linea veramente a zero spreco, perché quegli scarti che provengono dalla raccolta differenziata, vengono portati, anziché con un camion lontano in discarica chissà dove, vengono processati nella linea termica, che a sua volta ci dà l'energia e il calore necessari appunto al processo di maturazione di tutta la raccolta differenziata dell'organico, che diventerà compost, quindi nuova terra, nuova vita. Praticamente siamo passati da una potenzialità di 24.000 tonnellate a 70.000 tonnellate. Quindi possiamo serenamente affermare che c'è una capienza più che doppia in questo caso, a rimarcare proprio l'estrema attenzione che questa centrale di recupero ha nei confronti delle raccolte differenziate. È sbagliato dire che dove ci sono impianti non si fanno le raccolte differenziate. Tutt'altro, è il contrario. Questi sono impianti che per la loro natura moderna hanno necessità delle raccolte differenziate, ma hanno anche la capacità appunto di non generare quegli scarti e soprattutto di azzerare il trasporto dei rifiuti. A esa impianti però, ci immaginiamo, non si ferma qui. No, non ci fermiamo qui perché a gennaio partiranno i lavori per il biodigestore, che è un'altra parte, praticamente un altro upgrade che facciamo a questa linea, dal quale troveremo il modo di ricavare del biometano, appunto da mettere a disposizione dei cittadini. Biometano nell'ordine di, se posso dare un numero, attorno ai 100.000 pieni di una comuna macchina metano. E questa è un'altra forma a zero preco di recupero, importantissima, che ci permetterà di rafforzare proprio la vocazione impiantistica al recupero totale per come ci ha definito la regione toscana. Assessore, taglio del nastro, un impianto sempre più avveneristico? Sì, è un impianto, diciamo, adeguato ai tempi. Questo è uno step di un processo di implementazione del nostro polo impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani. È uno step importante perché riguarda l'aumento della capacità di trattamento dei rifiuti organici prodotti dal nostro comprensorio. Quindi da questo impianto che aumenta la potenzialità, quasi la raddoppia, verrà prodotto ammendante, che poi dovrà essere utilizzato in ambito agricolo. E quindi noi siamo molto contenti perché comunque vedere, realizzare un qualcosa oggi, soprattutto di infrastrutturale in questo paese, è molto difficile perché c'è un iter a monte, c'è un iter burocratico e amministrativo incredibile. Cioè si parla di tre, quattro anni, insomma, di lavoro di carte e di autorizzazione. Ad oggi vediamo concretamente quello che effettivamente è stato fatto. E quando entrerà a pieno servizio, a pieno regime, questo sarà in grado di trattare tutti i rifiuti organici provenienti comunque dal nostro comprensorio. Asempianti negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, però guarda sempre più al futuro. Beh, bisogna guardare sempre al futuro, bisogna guardare sempre al futuro, però con concretezza, cioè con una visione di riuscire a traguardare chiaramente determinati obiettivi. Questo perché? Perché comunque la gestione dei rifiuti urbani va fatta in maniera concreta, in maniera cosciente, perché di giorno in giorno noi comunque produciamo dei rifiuti. Quindi non è che si può pensare a tecnologie che poi non hanno un'applicazione industriale concreta subito. Chiaramente si sta sempre guardando in avanti, perché questo è uno step, il prossimo step prevederà comunque la biodigestione anaerobica, e quindi un processo in cui produrremo biogas, il biogas verrà trasferito in biometano e il biometano verrà utilizzato per l'autotrazione. Cioè questa è la nostra visione. Presente a questa inaugurazione, molto importante per Arezzo e tutta la sua provincia, anche Massimo Anselmi, che è presidente della squadra di calcio femminile, che sta avendo veramente un grande successo. Ci dà grande soddisfazione. Sì, è un anno molto complicato perché abbiamo un girone complesso, dove tanti ambiscono a salire di categoria. Quindi stiamo lottando, stiamo lottando, siamo là, al primo posto, insieme al Penerolo. Domani c'è lo scontro diretto, quindi domani sarà una giornata molto importante per noi. Lei sia come imprenditore, come presidente di questa squadra di calcio, è coinvolto con Aisa Impianti in alcuni progetti? Alla base i principi sono gli stessi. Noi lavoriamo molto anche per il sociale. Cerchiamo di aderire a tutte le iniziative che riguardano la nostra città e quindi sicuramente Aisa è una realtà che, come noi, cerca di fare tutto il possibile per la comunità. Dobbiamo ringraziare il calcio femminile, se qualche soddisfazione ad Arezzo ce la stiamo togliendo. Da punto di vista calcistico. Sì, adesso la classifica è a nostro favore. Siamo, come ho detto primi, ma il campionato è molto lungo e molto complicato. Come dicevo, molti ambiscono a salire di categoria. Le squadre sono tutte ben organizzate. Ci sono squadre anche blasonate. Due all'interno del nostro girone sono scesse dalla Serie B, quindi hanno sicuramente un organico molto importante. sarà un gran finale, credo, perché forse ce la giocheremo proprio nelle ultime partite.